È il 31 dicembre, quale occasione migliore per noi donne poter questa sera indossare qualcosa di veramente sexy. E le calze sono sicuramente una parte importantissima per la nostra vestizione. Ora vi racconto io come ho fatto la mia scelta. Come vedete ero indecisa fra varie tipologie di calze e di collant. Collant più scure con magari un ricavo dietro, collant a rete, collant leggerissime color carne o collant nere color carne velatissime. Come si sceglie il collant giusto per la sera? Vi racconto io come ho basato la mia scelta. Per me questa sera è fondamentale avere un paio di sandali che siano veramente belli. Scegliendo questo tipo di sandalo, che quindi è una sarpa gioiello, e quindi posso scegliere di indossare un abito molto semplice, molto basic, devo per forza scegliere un collant che possa andar bene col sandalo che rimane aperto sulla punta. Quindi per questo motivo, non volendo andare senza le calze, che sarebbe la prima scelta importante se si desidera indossare un tipo di sandalo aperto davanti, scelgo la calza a rete. In questo caso una calza a rete nera, che sia di una maglia media, quindi non una maglia grande, nemmeno una maglia troppo piccola. In modo tale che io riesca a mantenere comunque una bella forma della gamba, che si possa comunque intravedere qual è la forma delle mie gambe, e che comunque faccia da vestizione e dia un pochino il senso di copertura della calza. Quindi questa sera questa sarà più o meno la mia vestizione. Un abito nero basic, un paio di calze a rete nere a rete medio piccola, e la scarpa gioiello, che sarà un sandalo oro molto molto importante. Con quest'altro consiglio spero di esservi stata utile e approfitto per augurarvi un fantastico 2017, che possiate esaudire tutti i vostri desideri, o ancora meglio, che possiate raggiungere tutti quelli che sono i vostri obiettivi.